Amici di YouTube, allora vi faccio vedere la DMC Shop, la pentola, quella che non si riga, quella che non si graffia. Adesso ve la descrivo in questo piccolissimo video. Allora, questa è la scatola come si presenta? Vabbè, è semplicissimo, è una scatola normale. All'interno c'è, eccola qua, questa è la padella in questione, mi è caduto il coperchio in questo video. Sì, è la Red Copper, cioè questo è il modello, quello nuovo che c'è nella televendita. È piccolina, è piccolina. Sicuramente ha, eccola, questa è 24 cm. Sì, diciamo che il materiale sembrerebbe buono, però ecco ancora io non l'ho provata, questa l'ho regalata a mia madre. Colore rosso, il sotto. E questo qua non si dovrebbe né graffiare né scalfire con nessuna cosa. Questo è il coperchio che ho montato, le viti. Queste qua l'ho messe con molta difficoltà perché non c'è scritto. Ci sta un disegno ma non è ben, diciamo, ben preciso, che spiega un po' quello che è. Ecco, mi è caduto un'altra volta. E niente, diciamo che piccolina, non so, mi aspettavo qualcosa di meglio. Questo è il ricettario, quello che c'è all'interno. Tutte le ricette. E questo invece è un altro, diciamo, deblian di tutte le cose che hanno questa, la DMC Shop, per comprare, diciamo, altre cose. Questo è il coltello che c'era all'interno della scatola, è molto tagliente questo qui. Forse, diciamo, è un buon prodotto. Ecco qua quello che si presenta. All'interno ci stanno queste cose. E questa è quella sorpresa perché praticamente mi è ritardato tantissimo e mi hanno dato uno sconto di 5 euro da spendere in un altro articolo, insomma, che compri. Questa è, ti dicevo prima, le istruzioni che ci sono per il montaggio della maniglia, ma è una cosa semplice comunque. Questa è sulla scatola perché mi hanno consegnato, pensate, dopo un mese comunque l'importante che sia arrivata. Allora, signori miei, che dire? Io darei da 1 a 10, 1 a 6 a questa televendita. A parte la televendita è fatta bene perché chiaramente fa vedere le cose, no? Messe lì per lì, fa vedere che è tutto bello quello che si vede mentre fanno le televendite. Poi all'atto pratico è piccolina, 24 cm sono veramente piccoli. Non l'ho provata, sicuramente sarà efficace, però ho perso parecchi punti nella consegna e nella presenza proprio dell'oggetto. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!